L'ex compagno della showgirl ha affrontato il delicato argomento durante una conversazione nella casa televisiva. Le confidenze tra i concorrenti del grande fratello VIP iniziano a circolare nelle mura della casa che cattura ogni racconto 24 ore su 24. Dopo le confessioni intime di Patrizia Rossetti, le lacrime di Luca Salatino e i commenti tutt'altro che l'usinghieri di Attilio Romita. Nelle scorse ore ad aprirsi con Charlie Gnocchi è stato Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marie. Il dialogo tra i due ha avuto come delicato argomento quello della fine della storia con la showgirl che, stando alle indiscrezioni, già prima che Eller Stylist accettasse di partecipare al reality, lo avrebbe diffidato dal parlare di lei e di tutto ciò che potesse riguardarla. Evidentemente però, riferirsi al suo recente è stato inevitabile quando Gnocchi gli ha rivolto la secca domanda. Origine di un racconto che la regia ha interrotto cambiando inquadratura. C'erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. Eravamo due cose troppo diverse. Due mondi distanti ha raccontato Antonino parlando della sua relazione con Belen. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo. Poi il riferimento ai litigi come motivo di allontanamento dalla sua ex compagna e repentino cambio di scena della regia del GF VIP notato dai telespettatori che sui social hanno commentato il dettaglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.